Musica Ciao mamma! Buondi e benvenuti nel mio show! E' sempre un piacere parlare con un pubblico così vasto Che tristezza Siccome ho già fatto un po' di video, la domanda vi sorgerà spontanea Che cosa fai? Di cosa tratti? Di cosa parli? Chi sei? Io sono tuo padre Beh, signori miei Faccio un sacco di cose fighissime Esplodere cose, avventure, costruisco cose, sfide, tutorial, esperimenti, acrobazia, cucino, sfide, 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 sfide E ancora sfide! Io amo le sfide Ma con chi? Con me Beh, cari amici miei, mi tocca salutarvi Ci vediamo al prossimo video Grazie 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 Grazie